Non dimenticare la cipria, step fondamentale per fissare il tuo make-up. Per completare la base è indispensabile l'uso della cipria. In questo caso ho scelto una cipria di Nihonco compatta e la vado a stendere con un pennello per avere un risultato più naturale. Quindi sul viso uso il pennello mentre sul contorno degli occhi vado a usare un più o meno per avere un finish più coprente. Questa cipria è waterproof quindi ci aiuta a controllare la sudorazione è antiossidante e ti consiglio di portarla con te durante il giorno per i vari ritocchi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!